Sono partita quando ho capito che tra le quattro mura in cui pagavo l'affitto in realtà non mi sentivo veramente a casa. Così sono andata a cercarla, con un biglietto di sola andata diretto verso l'altra spona dell'oceano. Mi sono messa in cerca di un posto da chiamare casa cinque mesi fa e penso di averlo trovato. Anche se non è un edificio e non saprei puntarci il dito su una mappa. Casa per me è una community di persone con cui basta un sorriso per fare amicizia. È un tuffo nell'oceano appena sveglia o una passeggiata nella giungla in pausa pranzo. Casa per me è sapere che tutto ciò di cui ho bisogno sta in una valigia e che potrò sempre decidere in che angolo di mondo svegliarmi domani. Grazie a tutti.